Alla simili, benvenuti a questa nuova visione di Watchdog, io sono LineLimit e questa è una chiamata Come al solito Andare bene Va bene Allora, dove sta la campagna? Dai Un po' come lo zio Eh, vorrei saperelo pure io Quindi mappa, 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 mappa Mappa della campagna E Jackson, prima l'ho trovato Questa è la seconda volta che lo cercamo, eh Mettiamo subito Andiamo alla campagna Dove diavolo sta Campagna, ci rivediamo tra poco Eh, ha chiamata, chi è? Ho trovato a cercare la mamma Ci sono degli uomini armati Bello Ho paura Non ti preoccupare piccolo, nasconditi Jackson Sto arrivando Ed è vero Jackson Ed è vero Ok, eccoci qua Allora, io ho fatto un salto alla cosa Sono carico come Rambo Che vi dico tanto E quindi persona modello Ok Ah sì, corsi online Però quando le giaccio io Col cazzo che ci stanno le persone, eh Capisco che è un gioco del 2012 Il 2014 Però forse la presenza è Io lo faccio per voi Quello è il furgone di Racine Ah Racine Oh 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 Elimina tutti? Ok No, no, fermi Tutti, tutti Come si apre la ruota delle armi? Oh, ma c'è questo Avviciniamoci il più possibile Boh, no Con dove vai con quell'arma? Ma ce l'hai ancora in mano, eh? Ci dobbiamo avvicinare Tanto non mi vedono Credo io Allora, sono già tutti così, no? Allora, farli fuori uno per uno È un bel problema Eh no Non so tutti i segnali, però Adesso sono tutti i segnali Non l'ho preso, porca vacca Porca trota Ah, qui finisce male per me, eh Il silenzio non è il mio forte Non è la mia virtù migliore Diciamocelo Diciamocelo, ragazzi Il silenzio non è proprio Oh, shit Maledetto furgone Ma ce n'è qualcuno? Oh, lì su Tu ti stai avvicinando proprio Ma quanto sei scuro Da da uno a 20.000 Io vedo te però Che cazzo Sei la persona più fortunata del mondo Mi hai visto? Ok, ok Ricarica Oh, l'abbiamo trovati Ci stanno a venire Vabbè, meglio di niente, raga Vediamo un po' che combinano Mmm, troppo lontano, eh Ah, poi devo fare questo? Non mi aiutate in questo modo Dove mi stanno a pia? Ma li so a faffari qualcuno? Oh, l'abbiamo trovati Vaffanculo Vaffanculo Beh, tenetevi a niente Tenetevi a niente sto D Mi son proprio rotto il cazzo Che sto a stilizi Mmm Mmm Eh, vorrei saperlo pure io Allora, neutralizzazione Da dove stanno a sparare? Non mi diceci che tu sei libero davvero? Tu sei figlio del coraggio? Ok Allora, che devo fare? Ah C'è un tombino che può tranquillamente esplodere Perché io mi devo impegnare No, no Lancia granate Non si è mai troppo sicuri Allora, ce n'è qualcuno qua Che è rosso Punto del puntino rosso Oh, e questi? Succede? Vedi che sei ancora vivo? Ah, beh Difendi dai rinforzi Mi pareva Trova Jackson Beh, è stata una missioncina veloce Veloce Ma l'arancia granate Non ha più munizione Peccato Peccato Mucho peccato Allora, dove sta Jackson? Jackson Jackson Where are you? Jackson You are Here Jackson Oh, ando che a chi stai? Io ho fatto un casino della madonna Vettroate Sta al piano di sopra Sì, sto deve essere per forza al piano di sopra Ma la domanda è Come ci sei arrivato? Ah, forse il treno passa proprio al piano di sopra Metti a posto l'arma Jackson? Dove? Diavolo? Sei Qui si scende Oh, dove sta qui, eh? Esplosione Esplosione Oh, una valligetta Munizioni Pieno Tutti i tipi? Potenza Cioè, credi che non riesca a trovar Jackson? Ah, eccolo là Dovevo salire solo Che stupido Aghera Jackson Amico mio Dove ti trovi? Questo è pure pieno Che cosa neanche Vediamo un attimo Bello di casa Ti è spaventato lo so Ma perché? Ops Hai visto il tuo zio Che lanciava granate a destra a manca? Ti porto al sicuro È stato un bellissimo problema Forza, Jacks Al sicuro con te, zio? Andiamo Eh, la vedo tosta Forza No, ma non è vero Io non sono così Bello Eh, oddio Diciamo che In realtà Dovevi neutralizzare Però Dato che stai nelle mie mani Mie mani Direi che È una strage Sei il passaggio della morte Tu Diablo Uguale Eh? Amici forever Endeva Diciamola così Ci sono tante cose Che vorrei spiegarti Mmm Questo già non parla Non so Che palle questa Senti, Jacks Guarda che sguardo Devo occuparmi Degli uomini cattivi Tu devi stare al sicuro È così che mi dai forza Come il guaritore Ha parlato Spam Però quello è solo un gioco Cioè i ragazzini Quelli ti ammazzano Io l'avverto Se non ho presto Notizie di sua madre Chiamo la polizia Che coglioni questa Che coglioni questa Il cuore mi fa in panna Ogni volta che lei compare Atto 2 Persona modello completata Ragazzi noi ci vediamo Nel prossimo episodio Lasciate un like Iscrivetevi al canale E vai Miei 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 punti per noi Miei punti per noi